Siamo al secondo numero dell'attimo decisivo. L'attimo decisivo è un fumetto incentrato sulle avventure di quattro adolescenti che, in seguito a un evento potenzialmente catastrofico, scoprono di essere accomunati da uno speciale potere che consente loro di affrontare e contrastare l'azione di un misterioso avversario che si presenta sotto forma di gigante oscuro e impalpabile. Questo loro potere li porta ad acquisire sempre più consapevolezza rispetto ai rischi che li circondano, rischi che minacciano persone, affetti, cose. E il loro antagonista, che è anche il narratore della storia e si fa chiamare l'equazione, altri non è che l'equazione del rischio, ovvero la rappresentazione dell'inesorabilità dei rischi naturali, che non possono essere eliminati. Il rischio zero, infatti, non esiste. Ma i cui effetti, grazie alla conoscenza e all'azione di tutti, possono essere contrastati. Il progetto, promosso dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, si inserisce nella campagna di comunicazione pubblica Io non rischio buone pratiche di protezione civile e si avvale del contributo di professionisti del mondo della comunicazione e della narrazione. Il primo numero, uscito lo scorso anno, è stato spedito agli istituti scolastici per essere distribuito a tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e letto in classe, con la guida degli insegnanti, il 13 ottobre del 2023, in occasione della giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali. Pertanto, se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di procurarvi innanzitutto il primo numero, leggerlo e farlo leggere perché ogni storia, pur essendo autoconclusiva, è pensata per essere un tassello di una narrazione seriale fatta dai riferimenti incrociati che non può essere compresa e gustata appieno senza aver presenti le puntate precedenti. La storia raccontata in questo secondo numero si intitola La Virgola. È ambientata nella zona dei Campi Flegrei, un'area vulcanica campana caratterizzata dal fenomeno bradisismico e si inserisce negli obiettivi del piano di comunicazione alla popolazione previsto dal Decreto Legge 140 del 2023, dal titolo Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. Questo provvedimento prevede le attività che tutto il sistema di protezione civile deve mettere in atto per rispondere alla crisi bradisismica. La corretta comunicazione ai cittadini figura tra queste attività insieme a molte altre, dalle verifiche agli edifici alla pianificazione di tutte le azioni che le istituzioni devono mettere in campo per assistere la popolazione qualora fosse necessaria. Pertanto a questo numero, oltre al Dipartimento della Protezione Civile e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno lavorato anche la Regione Campania e l'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV. Come per il primo numero, anche questa nuova storia è pensata per essere una narrazione polifonica multimediale. Il fumetto in sé non contiene infatti tutte le informazioni relative alla conoscenza del rischio e alle buone pratiche di protezione civile che ci aiutano a evitarlo o contrastarlo. Questo numero, esattamente come il primo numero, è soprattutto una storia avvincente. Ma una storia puntellata di QR code che non aspettano altro che essere inquadrati con un dispositivo connesso alla rete per proiettare il lettore in un universo espanso in cui i quattro eroi del fumetto raccontano tutto quello che è bene sapere e saper fare riguardo a uno specifico rischio o un contesto emergenziale di protezione civile. Per rendere la storia piacevole nella fruizione e al contempo utile a stimolare la curiosità e l'attenzione degli studenti, consigliamo di procedere nel modo seguente. Prima di tutto è bene leggere la storia dall'inizio alla fine, secondo il metodo preferito. Può leggerla l'insegnante oppure a turno possono farlo gli stessi studenti. L'importante è che sia letta tutta ad un fiato senza soffermarsi troppo sulle cose, giù, fino alla fine. Una volta letta è possibile avviare una prima discussione a caldo, chiedendo alle ragazze e ai ragazzi cosa ne pensano, cosa hanno capito, quali emozioni hanno provato. Poi si ricomincia da capo, procedendo a una rilettura analitica più attenta e ragionata, questa volta soffermandosi quando serve, soprattutto soffermandosi quando si arriva a un quadro in cui è presente un QR code, a cominciare da quello in copertina. Premurandosi pertanto di avviarlo, se lo si inquadra, si clicca sul link e tramite la LIM o attraverso un dispositivo mobile il video parte. Una volta giunti alla fine della storia e avendo visto insieme tutti i video correlati ai QR code, è il momento di dare vita a un dibattito più consapevole e articolato su quanto si è appreso e compreso, raccogliendo opinioni, sensazioni, pensieri e considerazioni utili allo sviluppo di una più solida consapevolezza di protezione civile. Naturalmente quello che suggeriamo è soltanto uno dei tanti modi possibili di procedere in aula e ogni insegnante è libero di procedere come meglio gli suggeriscono sensibilità ed esperienza. L'importante, a nostro avviso, è offrire agli studenti un'esperienza di lettura e analisi condivisa e partecipata perché, come tutte le storie, questo fumetto ambisce a svolgere un'azione di stimolo e arricchimento, per così dire enzimatico, un catalizzatore di riflessioni, di discussioni, di condivisioni. Ricordo infine che queste video lezioni sono dedicate proprio agli insegnanti ai quali, progettando questo fumetto, abbiamo voluto riservare un ruolo cruciale. Facilitare la fruizione delle storie proposte in quanto storie, con la loro potenziale carica di coinvolgimento, identificazione e stimolo e, al contempo, bilanciare sapientemente il livello di approfondimento necessario a centrare l'obiettivo del progetto e dell'intera campagna non rischio, ovvero sensibilizzare le persone sui rischi cui siamo esposti come individui e comunità, far crescere la consapevolezza, che amiamo definire come sapere in azione, che questi temi riguardano tutti e che ciascuno di noi è chiamato a farsi carico responsabilmente del proprio pezzetto di buone pratiche di protezione civile. E che tutto questo può essere vissuto come una grande, importantissima avventura in cui ognuno diventa il protagonista di una storia fatta di attenzione, intelligenza, altruismo e di un rinnovato senso di comunità. Grazie. 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 Grazie.